In Italia gli ambienti terrestri si trovano nel miglior stato di conservazione. Dagli anni 80 la crescita della popolazione si è stabilizzata e si è concentrata soprattutto nelle città. Questo ha permesso un maggiore sviluppo delle aree forestali, che è riuscito a controllare il tasso di estinzione. La conservazione di grandi mammiferi come il lupo, lo stambecco e il camoscio appenninico è molto migliorata negli ultimi 30 anni, mentre quella di almeno 30 specie di pipistrelli è peggiorata a causa del degrado degli ambienti frequentati da questi animali. Contrariamente alla terraferma, le acque dolci sono ambienti minacciati. Le grandi opere di canalizzazione e dighe e le scarse precipitazioni hanno compromesso la vita di molti animali acquatici. Quasi la metà dei pesci e un terzo degli anfibi sono a rischio di estinzione. Infine, l'ambiente marino, nonostante gli ultimi sforzi, registra numeri ridotti per alcune specie marine. Le spugne e i coralli, che vivono sui fondali, sono nello stato di conservazione peggiore. I fondali, infatti, subiscono le conseguenze della pesca, della costruzione di barriere artificiali, dell'immissione di inquinanti e di altre azioni dell'uomo, che possono portare queste specie fino all'estinzione. In base all'indice di rischio di estinzione, questi habitat possono essere rappresentati da valori che vanno da 0 a 1, dove 0 corrisponde all'estinzione di tutte le specie, mentre 1 ha nessun rischio per le specie.